Ecco, è stato siglato pochissimi decine di minuti fa il protocollo, l'intesa per lanciare il primo master in filosofia del cibo e del vino. Innanzitutto siamo nella bellissima sede delle Gallerie d'Italia, in un giardino meraviglioso, quindi c'è filosofia, c'è cultura anche qui di sicuro. Qual è innanzitutto il ruolo d'intesa San Paolo e con quali prospettive? Il ruolo d'intesa San Paolo in un protocollo come questo che abbiamo siglato è un motore, un motore come abbiamo detto tante volte, una banca che può essere di connessione fra persone, aziende, in questo caso fra aziende, università e tanti studenti che hanno o hanno la possibilità di trovare un percorso concreto ma molto ancora ancorato a tematiche culturali e a tante eccellenze come quelle che fanno parte dell'associazione con la quale abbiamo siglato questo protocollo, quindi tante aziende eccellenti nel settore vitivinico, Mallegrini, Planeta e tante altre. Il gruppo ha già fatto altre iniziative a supporto dell'agroalimentare, a supporto del sistema del food e del wine in Italia che forse sta davvero trovando una sua posizione, se se ne sono accorti anche le grandi banche vuol dire che qualcosa di vero c'è. Allora diciamo noi ci siamo sempre stati, noi abbiamo sempre avuto e giocato un ruolo importante come credito a supporto del settore agroalimentare, l'evento in più che stiamo giocando e vogliamo giocare oltre a un rafforzamento del credito perché abbiamo siglato un accordo importante con il Ministero dell'Agricoltura, 6 miliardi in tre anni ma quello che abbiamo voluto fare in questo percorso è di associare anche altro, come faceva parte dell'accordo con il Ministero in una componente molto orientata anche agli aspetti formativi, nell'ambito di questi verticali che sono parte di quell'accordo abbiamo voluto anche sviluppare questo master con l'Università San Raffaele e con l'Associazione del Vino che secondo me crea un qualcosa di unico all'interno del panorama italiano ma perché ha una componente anche molto operativa, pratica con risvolti anche che possono agevolare l'inserimento nel mondo occupazionale per i tanti studenti che decideranno di sottoscrivere. Noi ci siamo e ci siamo anche a favore degli studenti andando a finanziare con il prestito con l'Ode la partecipazione a questo master per cui diamo la possibilità anche a coloro che non hanno i mezzi di poterlo fare, peraltro con un percorso di rimborso lungo e agevole. Quindi un'offerta articolata, vera, concreta che può davvero porre nuove basi per nuove occasioni, sia di lavoro che di cultura e di studio. Assolutamente, è proprio così. Il suo rapporto col food qual è? Molto buono, mi piace mangiare, mi piace bere, pur che le cose siano eccellenti e buone e quindi sono un italiano. Bene, ultima base allora, ultima base, grazie e buon amore. Grazie.